Ben ritrovati. Nuovo appuntamento di Parole di Salute, Prevenire e Vivere, programma di informazione medico-scientifica prodotto da Noi TV con la collaborazione di iCare in onda tutti mercoledì alle ore 22.15, oltre naturalmente le repliche. L'argomento di oggi è malattie respiratorie, le cause inquinamento atmosferico. Con noi il dottor Gerardo Palmiero, direttore dell'unità operativa pneumologia dell'ospedale Unico Versilia. Quando si parla di inquinamento atmosferico a che cosa ci riferiamo? Il termine inquinamento è piuttosto vago. Abbiamo le definizioni classiche un inquinamento outdoor, che per la terminologia anglosassone significa all'aperto, cioè quello che noi scontriamo uscendo per strada, tanto per capirsi, è un inquinamento indoor che è quello che abbiamo nelle comuni abitazioni, nell'ambiente domestico, dove la svolge da padrone, purtroppo, il fumo di sigaretta. Mentre l'inquinamento outdoor è dato molto spesso da attività antropiche, quindi dovute all'uomo, quindi veicoli, scarichi industriali, eccetera, eccetera. Però non dimentichiamo che una fonte di inquinamento è anche una fonte naturale, che c'è sempre stata. Ricordiamo le grandi esplosioni, le grandi eruzioni vulcaniche, per esempio quella del Pacifico, che ha cambiato il clima di intere zone del pianeta, se risaliamo ovviamente nel corso della storia e nel passato, come anche i grandi incendi boschivi. Tutte queste sostanze che vengono liberate dalla combustione possono creare delle particolari sostanze che sono molto dannose per i polmoni. Abbiamo infatti delle sostanze come anedride solforosa, come prodotti dell'azoto, ozono, senza poi parlare, per dimenticare il monossido di carbonio, una sostanza che purtroppo conosciamo anche per le tragedie, delle stufe che accadono molto spesso durante la stagione invernale. E poi abbiamo ovviamente un inquinamento, che questo era primario, un inquinamento secondario, dovuto ad esempio all'incontro da queste sostanze prodotte dall'uomo con l'atmosfera. L'ozono stesso è prodotto tramite l'azione dei raggi solari. In teoria l'ozono non esisterebbe come inquinamento di base, esisterebbe in termini ovviamente chimici, ma viene prodotto ed aumentato in quantità importante con il contatto con i raggi solari e degli inquinanti ovviamente ambientali. Il dottore ha parlato subito di sigarette che è inevitabile. Le sigarette ovviamente legate al tabacco, ma ci sono anche le cosiddette sigarette elettriche, ecco, elettroniche. Hanno i suoi rischi, dottore? Questo è un argomento decisamente molto interessante. Considerate che più del 10% degli adolescenti americani, perché la maggior parte delle statistiche vengono dagli Stati Uniti, fumano queste e-sig, queste sigarette elettroniche. In Italia si è coniato anche un termine, diciamo, in parte di derivazione anglosassone, in parte autoctona, svapo, per indicare queste sigarette, i vapors negli Stati Uniti. Ma all'inizio si pensava che queste sigarette fossero in un certo qual modo innocue per la salute. Ma in realtà non è così. E a questo proposito è bene sottolineare il perché. C'è uno studio molto recente in realtà, fatto negli Stati Uniti, nella CAC School della South Carolina, quindi uno studio decisamente importante, che ha paragonato, non voglio entrare nei dettagli ovviamente, ma il sodio è questo, ha paragonato i polmoni di persone che avevano fumato soltanto svapo, versus persone che avevano fumato la nicotina, le sigarette diciamo normali, versus persone che non avevano mai fumato. E poi sono state prelevate delle cellule, sia in cavità buccale, sia a livello esofageo. E cosa si è visto? Si è visto che addirittura nei pazienti che avevano fumato soltanto l'esvapo c'era un tasso di mutazione al DNA 2.6 volte maggiore rispetto alle persone, diciamo, naive che non avevano mai fumato. E invece nelle persone fumatori era 2.2. Quindi paradossalmente le e-sigarette andavano a produrre una mutazione genetica decisamente superiore rispetto a quelle delle sigarette normali. Questo non vuol dire ovviamente che produrranno sicuramente dei tumori, però è un campanello d'allarme, qualcosa da prendere in considerazione. Anche perché vi è un altro studio, sarà molto breve perché gli studi sono noiosi, ma bisogna andare alla sostanza, uno studio di marzo, ultimo scorso, che ha usato una metodica che molto spesso usiamo noi nel campo ovviamente dell'oncologia, che è la PET, è andata a cercare un enzima particolare che è l'ossidosintetasi per quanto riguarda l'NO nell'esalato. E si è visto che i polmoni, anche in questo caso erano polmoni di gente che fumava l'esvapo versus polmoni fumatori versus polmoni non fumatori, si è visto che il tasso di infiammazione, il rete di infiammazione era decisamente molto più alto delle persone che avevano chiaramente fumato le sigarette elettroniche, quindi aveva un'infiammazione diciamo superiore e addirittura i macrofagi, che sono delle cellule di difesa dell'organismo presente a livello alveolare, erano superattivate, quindi avevano un aumento dell'infiammazione a livello polmonare, ma d'altro canto purtroppo diminuivano le loro capacità di difesa. Quindi cosa succedeva in poche parole? Si aveva un aumento dell'infiammazione e una diminuzione delle capacità di difesa e questo chiaramente, ovviamente ulteriori studi sono necessari, ma questo suona come un campanello d'allarme perché è un upside down, è un stravolgere quello che è l'immunomodulazione, quindi aumentare l'infiammazione e diminuire le capacità di difesa del sistema immunitario, proprio quello che noi medici cerchiamo ovviamente di combattere, di controllare, di invertire, quindi chiaramente è qualcosa di estremamente importante su cui focalizzare l'attenzione, per cui io direi che le sigarette elettroniche si potrebbe anche farne a meno, la cosa migliore sarebbe smettere completamente di fumare, il fumo rappresenta chiaramente la causa delle maggior parte delle malattie respiratorie e ovviamente oncologiche e ovviamente cardiologiche ed altre anche. Dottore parliamo adesso di un qualcosa che ahimè mi coinvolge almeno sotto il profilo del mio cognome, che cosa sono le polveri sottili? Questa domanda si ricollega in parte alle precedenti, vedete? La presenza di questo particolato, cioè di particelle, inferiore diciamo ai 10 micron, cosiddetto PM10 che molto spesso sentiamo in televisione, ma c'è anche il PM2.5, ci sono anche le particelle ultrafili, sono quelle particelle che riescono a depositarsi a livello polmonare e entrano profondamente ovviamente nel tessuto polmonare, ovviamente più piccole sono le particelle più arriveranno in profondità e il danno di queste particelle può essere diciamo importante, considerate che è stato dimostrato che addirittura nei bambini e negli adolescenti atopici, bronco responsivi, si ha un aumento del 139% della sintomatologia per un aumento di 100 microgrammi metro cubo del particolato, cioè in altre parole, in maniera molto più semplice, nelle zone più inquinate si è riscontrato un aumento dei sintomi di iperresponsività, dei sintomi di atopia, dei sintomi dell'asma, ma perché? Il meccanismo biochimico ve lo risparmio, però è importante capire cosa succede, fondamentalmente queste molecole estranei all'organismo generano un'infiammazione a livello alveolare, a livello polmonare che libera delle sostanze chimiche chiamate mediatori interleuchine, le quali attivano delle cellule regolarmente presenti nel polmone, delle cellule infoidie, che poi liberano delle sostanze chimiche che attivano il meccanismo asmatiforme, che attivano la bronco responsività. Paradossalmente si attiva quello che nell'asma è costituzionalmente attivato e ovviamente nei pazienti asmatici questo viene peggiorato in maniera importante. Sottolineiamo che le polveri sottili si trovano prevalentemente nei centri abitati dove c'è il gran smog, per esempio noi che abitiamo in Versiglia con il mare rischiamo anche noi per quanto riguarda le polveri sottili o siamo in un certo qual modo avvantaggiati? Allora, purtroppo, specie nell'Europa occidentale, ma non dimentichiamo i paesi in via di sviluppo, cosiddetti via di sviluppo come la Cina, dove in alcune zone, come a Pechino e addirittura in alcuni periodi dell'anno è proibito uscire, dato l'inquinamento e dato il particolato, chiaramente l'inquinamento è ovunque, quindi non ci sono zone risparmiate. E un'importanza dell'inquinamento, l'abbiamo avuto anche recentemente, purtroppo con l'epidemia di SARS-CoV-2, col Covid, si era visto che addirittura nelle zone dell'autostrada A1, e ora esistemente famosa per la recente alluvione A14, ovviamente in Emilia-Romagna, ma anche in pianura padana, si aveva un aumento del numero dei casi Covid. Tra le numerose cause, non è certo l'unica causa, chiaramente, si è stato dimostrato come, dall'Università di Bologna, come il particolato favoriva, diciamo, un mantenimento in sospensione, per maggior tempo, ovviamente delle particelle virali. Questo con conseguenza, ovviamente, dell'aumento delle possibilità di infezione. Quindi, chiaramente, il particolato è ovunque, ovvio, in alta montagna, in zone, diciamo, spazzate dalla brezza, dal vento marino. Nelle foreste, per esempio. Certo, certo, chiaramente, in tutte le... Certamente ce n'è di meno, anche perché ci sono alcune, diciamo, piante che sono in grado di essere stesse di, in un certo modo, tra virgolette, catturare lo smog. Quindi, ovviamente, nelle zone di filtrare, in un certo senso, sì. Quindi, ovviamente, in alcune zone sono più favorite, ovvio. Benissimo, allora, noi parleremo, nel contesto di questo appuntamento, anche delle malattie respiratorie. Per esempio, l'asma, ecco, ce ne parli un attimino in questo ultimo minuto. L'asma è una malattia che coinvolge molta popolazione, specie nel nord Europa. Ma, da quando sono qui, anche nella nostra stupenda Versilia, posso dire che ho trovato tantissimi casi di persone asmatiche, o comunque con sintomi asmatiformi, mettiamola così. Che cosa succede nel polmone quando qualcuno ha l'asma? Beh, l'asma è una malattia generalmente infiammatoria, caratterizzata da una broncostruzione. Cioè, i bronchi, le vie di conduzione del polmone, a un certo punto diminuiscono di diametro. Per dire in maniera molto semplice, diminuendo di diametro, passa meno aria, passa meno aria. E il paziente avverte una sensazione di dispnea, diciamo noi. Cioè, un affanno, una mancanza di aria, una costrizione. È una costrizione che è proprio quello che effettivamente accade a livello polmonare. Paradossalmente, il sintomo di costrizione, molto escluso la causa cardiaca, è veramente ciò che accade a livello polmonare. È veramente ciò che accade a livello polmonare. E molte volte, specie i bambini, avvertono una sensazione di fischi, una sensazione di visibili durante l'espirazione. Perché è ovvio, diminuendo il pertugio attraverso cui passa l'aria, il moto di aria diventa turbolento e cominciano a essere visibili. Io faccio sempre l'esempio delle finestre e della porta. Se abbiamo la finestra e la porta aperta, l'aria scorre tranquillamente. Se noi socchiudiamo una finestra, molto spesso in casa si sentono degli spifferi. Quelli sono, con certa approssimazione, i simili che possiamo ascoltare, che il medico ascolta di più a livello respiratorio. Grazie anche per questa bella similitudine che fa capire anche a coloro che non sono addetti ai lavori che cosa è l'asma. Parleremo del contesto di questo appuntamento di parole di salute con il dottor Gerardo Palmiero, anche dell'efisema polmonare e di altre malattie. Tutto questo dopo la pubblicità. Nuovamente insieme per parlare di malattie respiratorie, le cause e l'inquinamento atmosferico con la presenza del dottor Gerardo Palmiero, direttore dell'unità operativa di pneumologia del nostro ospedale Unico Versiglia. Voglio ringraziare iCare, che oltre a Pharmacity si occupa di riflessioni scolastiche nell'ambito ovviamente del territorio di Viareggio, del porto turistico, del tabarracci, dei servizi cimiteriali. Allora, dottore, abbiamo parlato nella prima parte dell'inquinamento in senso assolutamente generico. Entriamo più nello specifico e parliamo di una malattia molto importante. Che cos'è l'enfisema polmonare, le cause e magari la cura? L'enfisema polmonare è una malattia estremamente grave. Fa parte del grande gruppo delle malattie chiamate siopidine inglese, BPCO, un termine difficile. Broncoprenopatie cronico-ostruttive. Si diagnosticano ovviamente con la spirometria, quindi con un esame pneumologico. Negli Stati Uniti è invalsa anche l'utilizzo, addirittura per la terapia, per quanto riguarda limitatamente all'enfisema polmonare, anche dell'attacca toracea. Cos'è l'enfisema? L'enfisema è una distruzione dei sette alveolari. Io ho portato un contributo anche di imaging che può essere visto. Adesso la regia lo manda. Esattamente, in cui, vedete, sulla sinistra, sulla vostra sinistra, appare un polmono, non è la stessa persona, ma sono due persone diverse, però una è una persona sana dal punto di vista del pannecchima polmonare, quella sulla vostra sinistra, l'altra è una persona con un enfisema polmonare presente sulla vostra destra. Vedete, nella persona malata possiamo notare un aumento, per dire l'enfisema molto povere, del colore nero dell'attacca, dei polmoni. Questo perché? Perché non c'è trama polmonare, non c'è tessuto polmonare, è stata una distruzione del tessuto polmonare, si è formata una sorta di ragnatela. Se, guardate con attenzione, manca tutto quel bianco, tutte quelle diramazioni bronchiali, quelle diramazioni vasali, che sono presenti invece nel corrispettivo polmone dell'altro paziente, che è un paziente decisamente sano dal punto di vista polmonare. Altre patologie, per l'amor di Dio, ma dal punto di vista polmonare è sano, vedete? E inoltre, quindi manca non solo il tessuto polmonare, ma proprio è distrutto. Quello che voglio far capire ai pazienti, fondamentalmente, è che non c'è via di recupero. Cioè, una volta che abbiamo ottenuto una distruzione del tessuto polmonare, il tessuto polmonare, allo stato attuale, non si rigenera e non abbiamo nessuna terapia per farlo rigenerare. Ecco perché, oltre ai farmaci che abbiamo, e che sono fondamentali per evitare l'ulteriore peggioramento della malattia, o per meglio dire rallentare l'ulteriore peggioramento della malattia, perché purtroppo l'enfisema è una malattia che tende a progredire indipendentemente. Però con i farmaci che abbiamo, le limitiamo tantissimo l'evoluzione. Ma niente potremmo fare se il paziente non decide di cessare la sua abitudine tabacica. Ecco, cioè l'abitudine al fumo. Quindi una delle cause principali è il fumo della sigaretta. Ma quali sono anche le altre cause eventualmente? Una causa per cui io sono particolarmente orgoglioso, permettetemi di dire questa parola che ho introdotto qui in Versilia, è l'ambulatorio di cui ci si occupa ovviamente per il deficit la fauna antitripsina. Che cos'è? Per farlo in maniera molto povera, in maniera molto semplice, scusate. Alcuni pazienti deficitano di una sostanza che protegge il polmone. Quindi sono esposti più facilmente allo sviluppo di alterazioni sia polmonari ma anche epatiche e sviluppano un enfisema. In questo caso però c'è una grande soddisfazione perché se riusciamo a diagnosticare, se il medico ha l'intelligenza di eseguire i test che costano pochissimo veramente e sono di ordine comune, perlomeno i test di screening, sul dosaggio della fauna antitripsina, possiamo reclutare questi pazienti in fase precoce e limitare, sarebbe meglio impedire, ma limitare in maniera importante, lo sviluppo della malattia. E dico di più, quando io trovo un paziente di tal fatta, provo a estendere lo screening anche ai familiari, perché il deficit la fauna antitripsina ha un forte trait genetico, ha una forte componente genetica. L'enfisema polmonale ha una correlazione con il passare del tempo e quindi con l'età? c'è un enfisema parafisiologico senile, sì, però è fisiologico, nel senso nel corso del tempo si ha una limitazione delle spiegazioni, ma all'interno comunque di un range di normalità. Se il paziente non fuma, se il paziente quindi fa il bravo, come si dice dalle nostre parti, arriva tranquillamente anche in un'età avanzata, senza avere, e ce ne sono ringraziando Dio, senza avere problematiche respiratorie importanti. Grazie dottore. Bene, adesso ci colleghiamo come di consueto con Pharmacity, questa volta Pharmacity d'Arsena, con la dottoressa Barbara Procuranti. Grazie Claudio. Il tumore del colon retto si forma dalla crescita incontrollata delle cellule epiteliari che rivestono la mucosa interna dell'intestino, rappresenta il 10% dei tumori diagnosticati al mondo e si colloca al terzo posto, dopo quello al seno femminile e al polmone. Colpisce soggetti tra i 60 e i 75 anni d'età, senza una particolare distinzione per sesso, mentre vi è una stretta correlazione a livello ereditario, che copre circa il 50% dei casi. Poiché si presenta spesso in maniera sintomatica o con sintomi aspecifici, che possono essere ricondotti a varie patologie, un punto chiave nella diminuzione della mortalità legata a questa patologia è la prevenzione. Prevenzione che può essere svolta a livello individuale, con uno stile di vita sano, quindi una dieta ricca di fibre e povera di grassi, evitando le cattive abitudini come la sedentarietà e il fumo, e in secondo livello attraverso la diagnosi precoce. Diagnosi precoce, che in Italia viene effettuata attraverso programmi di screening gratuiti, lasciati dal punto di vista organizzativo alle varie regioni. Lo screening viene svolto attraverso l'esame del sangue occulto delle feci, tra i 50 e i 70 anni d'età, ogni due anni. In caso di una risposta positiva, si procede con la coloscopia. Coloscopia è un esame che a livello diagnostico si è rivelato molto efficace e prevede anche, in sede d'esame, di effettuare biopsie e rimozioni di piccoli tumori, se eventualmente presenti. Può essere leggermente dolorosa e, pertanto, spesso viene condotta in sedazione, ma è il metodo principale proprio perché ha una valenza sia diagnostica che di effettiva rimozione del tumore. Un'alternativa alla coloscopia classica è la coloscopia virtuale. Coloscopia che viene effettuata con l'introduzione di una piccola sonda nella prima parte del retto e attraverso l'acquisizione, attraverso raggi X, di un'immagine in 3D virtuale di tutto l'intestino. Dal punto di vista diagnostico ha la stessa valenza della coloscopia classica, però non permette di effettuare biopsie, quindi rimane appunto solamente un mezzo diagnostico. Per quanto riguarda noi come farmacia, il personale di Pharmacity è molto attento alla sensibilizzazione dei pazienti nei confronti di uno stile di vita sano e all'effettuazione di controlli quotidiani o periodici volti a limitare il rischio di sviluppo di patologie, per esempio misurazione della pressione arteriosa con rilevazione della fibrillazione atriale, valutazione dello stato metabolico individuale tramite l'acquisizione di parametri come la glicemia e il profilo lipidico e campagne di sensibilizzazione per la prevenzione del melanoma e del tumore al seno. A voi la linea. Grazie alla dottoressa Barbara. Abbiamo parlato di un argomento ovviamente non in linea col polmone, però ci dà spunto anche di chiedere al dottore Gerardo Palmiero quali sono le indagini che bisognerebbe fare periodicamente con il polmone. Prendiamo spunto proprio alle indagini che la dottoressa ha parlato per il coloretto. Beh, certamente come si è detto la prevenzione rappresenta l'arma che abbiamo a tutti a disposizione è la più efficace. Ogni tanto io una spirometria la consiglierei di fare. Che cos'è? Ce la spieghi? Semplice. Si tratta di soffiare all'interno di uno strumento che va a misurare la capacità polmonare e il volume di flusso espiratorio. Che cosa si evince con questo? Questo ci permette di fare la diagnosi di BPCO, la diagnosi di quella bronchite broncopolmonite cronico-ostruttiva, che sarebbe la casa madre in cui alberga sia la bronchite cronico-ostruttiva sia ovviamente l'enfisema polmonare. Quindi con una semplice spirometria noi possiamo fare immediatamente diagnosi di enfisema polmonare. Poi ovviamente se il paziente, questo purtroppo nel passato c'era una grave diciamo predisposizione all'incontro con materiali come l'asbesto, come l'amianto, specie nei cantieri navali. Tutti quelli ovviamente che hanno fumato e che hanno ovviamente avuto diciamo un, io lo chiamo incontro, diciamo un contatto. Quindi che lavorano in certi ambienti. Che hanno lavorato, sì, in certi ambienti ricchi di amianto, ricchi di asbesto, chiaramente e contemporaneamente fumavano, hanno una probabilità che è enormemente più alta di sviluppare malattie polmonari, come il mesotelioma polmonare con tumore della pleura, come lo stesso tumore a polmone, ma anche come malattie polmonari. Quindi il consiglio che lei dà è che periodicamente fare questa particolare indagine. Sì, per quanto riguarda le malattie funzionali, però queste persone qui con il contatto con l'amianto e con ovviamente storia di fumo, siccome i problemi si hanno dopo 30 anni, 40 anni dall'esposizione, dovrebbero fare anche qualcosa di imaging. E' consigliabile anche un attacco torace per questi pazienti. Perfetto. Una volta sola, mica da ripetere sempre. Allora, siamo alla conclusione. Dottore, io vorrei chiederle che cos'è la SIPI, visto che lei è il delegato che rappresenta la Toscana, a livello nazionale. La SIPI è la società italiana di premologia interdisciplinare. È una società premologica nuova, ma perché è nuovo il concetto che c'è alla base. È il polmone al centro, in un certo qual modo, e tutti gli specialisti che in qualsiasi modo hanno a che fare col polmone o con le malattie respiratorie, vi girano intorno, in un certo qual modo. È un po' l'idea del Sole e dei pianeti, dove il Sole è il polmone e i pianeti sono gli specialisti. Per cui abbiamo gli otorino, ricordiamo la stretta connessione delle malattie otorino-aringoiatiche con quelle polmonari. Abbiamo ovviamente il pediatra. Quanti di noi hanno figli e quanti di noi si rivolgono costantemente ai pediatri per le malattie respiratorie di cui i bambini, ahimè, soffrono durante, specie durante la stagione invernale. Abbiamo anche i dermatologi. Quindi qual è l'obiettivo primario che si pone la SIPI? L'obiettivo primario, oltre di fare campagna sociale per sensibilizzare sulle malattie respiratorie, è avere una disamina di tutte le varie componenti che una malattia polmonare può dare. Perché molto spesso, faccio un esempio semplice per capirsi, l'asmatico talora può avere anche una componente dermatologica, delle atopie. E quindi avere un'unione di più specialisti che collaborano per una determinata malattia può certamente giovare al paziente stesso. Io ringrazio la presenza del dottore Gerardo Palmiero, che ricordiamo è direttore dell'unità operativa di pneumologia presso l'ospedale Unico Versilia. Un grazie a voi che ci avete seguito sempre con grande fedeltà e attenzione. Un grazie ai CARE che oltre a Farmacity si occupa qui a Viareggio di riflessione scolastica, porto turistico, tabarracci e servizi cimiteriali. Appuntamento come sempre a mercoledì prossimo ore 22.15 e anche naturalmente in occasione delle repliche. Da Claudio Sottili è tutto. Grazie. Grazie a voi.